Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 They're offside. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Turnover. Grazie a tutti. 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 Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. 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 Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì. Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, 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 Sì. Sì, Sì, Sì. Sì, Sì. Sì. Sì, 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 Sì. Sì. Sì.